Come è strutturato il tirocinio? Parallelmente alle lezioni frontali, a partire dal secondo semestre del primo anno, svolgerete il tirocinio nei principali ospedali del bacino di Monza e Brianza e dell'area Mergamasca, che sono convenzionati con il nostro corso di laurea. La frequenza del tirocinio è obbligatoria al 100% ed è indispensabile per l'ammissione all'anno successivo, ma non preoccupatevi perché avrete un range di tempo e potrete gestirvi le ore come più preferite durante questi mesi per finire le vostre ore di tirocinio. Solitamente nel primo semestre il periodo va da novembre fino a fine del semestre, mentre nel secondo semestre già a partire da aprile fino a settembre avete tempo per svolgere le vostre ore di tirocinio. Grazie a tutti.